E dai, prendiamolo insieme. Arriviamo a Milano e torniamo indietro. Ma stai all'altro e devo stare a casa. E beh, che so, sono le sei. Eh, sono le sei. Telefono a tuo padre e digli che c'è sciopero. Guarda che a Sperlunga ce l'hanno la televisione, eh. E pure quella quella è quella. Ma tu ci pensi mai al nostro futuro? Come no? So tutto l'orario dei treni a memoria. Questo per esempio va a pescare. Senti, io mi sono scocciata di farlo nel bagno del treno con la gente che bussa. Ma te sei improntato bene. Ma scusa, ma perché non ti trovi un lavoretto? Pure tu. Ma che è oggi? Il primo maggio. Si vane. Oggi è un mese e non tu ci sei più. E io sono dimagrito di tre chili. Ma perché non tu mamma fatta cucinare a me? Lo sai perché? Non sei capace. Ma perché? Grazie a tutti.